Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il video è molto veloce, però volevo dire due parole riguardo la partita fra Bologna e Inter che ha appena terminato con un risultato clamoroso, anzi Inter-Bologna. Terminata 1-0 in favore del Bologna. Allora, partendo da un presupposto molto semplice. Il Bologna non ha rubato niente a nessuno oggi. Oggi il Bologna è andato, con il nuovo allenatore, con un nuovo assetto tattico e tutto quanto, è andato e ha fatto la sua partita. Ha fatto una grandissima partita e si è vista dall'intensità che ogni giocatore metteva Mijalovic. Vedremo poi quanto la cura farà effetto a lungo andare, ma io continuo a dire che il Bologna ha una buona squadra e di conseguenza può, secondo me, arrivare alla salvezza. Se gioca così ha maggior ragione, perché si è vista una squadra completamente diversa da quella che aveva Pippo Inzaghi. Quindi, sinceramente, complimenti al Bologna, complimenti al Bologna, perché comunque ci sta che uno parta già l'avventura con Mijalovic con una partita proibitiva. Passiamola così, una partita proibitiva perché vai a Milano, in casa dell'Inter, un Inter sì che non è informissima, però comunque è una squadra che qualitativamente ne ha molto molto più di te e comunque bisogna fare i complimenti a maggior ragione perché si è andato là con l'idea di giocartela. Ha fatto una grandissima partita a Palasso, una grandissima partita a Santander, una grandissima partita al centrocampo del Bologna. L'Inter ha di colpe quelle di aver fatto veramente troppi errori individuali, così come anche il Bologna l'ha fatto, però l'Inter l'ha sfruttati veramente molto molto male. Lianco è un difensore secondo me interessante, abbiamo visto veramente la crescita di tanti giocatori, probabilmente o giocavano contro il Pipo Enzaghi o comunque è arrivato Mijalovic ha dato nuovi stimoli, è comunque un attore molto offensivo lui, quindi ci sta che, in tutti i sensi, devo essere sincero, quindi ci sta che abbia dato nuovi stimoli, nuove forze ai giocatori che poi le hanno buttate in campo oggi. Quello che voglio dire all'Inter, agli interisti soprattutto, continuiamo a parlare di triplette, continuiamo a parlare di triplette, continuiamo a parlare di triplette, però apriamo gli occhi, aprite gli occhi e guardate quello che siete ora. E non è una critica, per me che sono giuventino, me ne frega il tubo a sentire che sono triplette, anche perché a me personalmente del triplette non me ne frega niente, a me interessa vincere la Champions da giuventino, quindi figuriamoci. Però dico semplicemente che così si rimane attaccati al passato e non si guarda al presente, che onestamente non dice malissimo, siete terzi in classifica, però vista la prestazione di oggi dice veramente male, dice veramente male, non solo la prestazione di oggi secondo me, la prestazione con la Lazio, la prestazione delle parti di campionato prima, col Torino. Insomma, l'Inter deve crescere mentalmente secondo me più che qualitativamente, perché la Rosa qualitativamente secondo me è superiore anche al Napoli, quindi figuriamoci. Però deve crescere mentalmente, superare il fatto di essere stati gli unici, i tripletti in Italia, mai stati in B. Sono sempre le solite frasi che si sentono e che poi oggi, se andiamo a guardare quello che veramente è l'Inter, purtroppo poca roba. E questo forse gli interisti devono capirlo. Detto questo ragazzi, il video è finito, io vi invito a mettere un mi piace se volete altri video post partita, il video post partita di Roma-Milan, vi invito a scrivermi nei commenti la vostra. Riguardo questa partita appena terminata, vi invito infine ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video. Attualità calcistica, fantacalcio, qualsiasi cosa accada nel mondo del calcio. Detto questo io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.